allora faccio questo breve video solo perché voglio dire la mia su questo attacco mediatico e secondo me anche ingiustificato che raffaele au sta subendo lo sappiamo tutti che ha sbagliato contro il newcastle con quel colpo di tacco esagerato quando poteva tranquillamente tirare in porta e probabilmente anche segnare però l'ha fatto ne prendiamo atto lo sa anche lui sicuramente di aver sbagliato in quel momento ma non si può attaccare ingiustificatamente il calciatore per quello che è successo addirittura titoli di stamattina se più balotelli o più un va bene cioè il calciatore non si discute quando si perde si perde tutti insieme quando si vince si vince tutti insieme quindi questo momento non è colpa di leao non è colpa di girù non è colpa di nessuno cioè la sconfitta del derby è colpa di di tutto la squadra e non del singolo la non vittoria contro il newcastle è colpa degli errori di tutti quanti e non del solo leao col newcastle meritavamo la vittoria si poteva avere un po più di cattiveria sotto porta però non dimentichiamoci che il portiere del newcastle ha fatto degli autentici miracoli ma miracoli quindi non abbiamo segnato è finita 0 a 0 amene pensiamo alla prossima però questo attacco mediatico alleao per quanto mi riguarda è ingiustificato quindi leao non si tocca e non c'è altro da aggiungere sempre forza milan grazie a tutti